Come ho detto all'inizio, questi sono emendamenti che spesso attengono a una virgola, magari a un errore di battitura. E spiace sentire il consigliere che mi ha appena preceduto, lamentare la perdita di tempo. Spiace sentirlo perché, che piaccia o no, questa è l'aula in cui si devono decidere le cose, in cui si deve dibattere e si deve discutere. Certo non sulla virgola che può essere frutto, ripeto, di un errore di battitura e che magari gli uffici giustamente rilevano perché hanno il dovere, il compito loro è proprio di giudicare la validità di un atto e di intervenire anche laddove c'è una virgola che non certo per ignoranza dell'uso della lingua, ma forse perché si batte di fretta, può succedere. Succede, sono magari 20, 10, 15, 1, non lo so, però intanto siamo qui che piaccia o no a dare un servizio alla cittadinanza e capisco che il regolamento può essere, per chi non è evidentemente abituato al rispetto di alcune regole, può essere un optional, però il regolamento è quello che dà, a nostro modo di vedere, proprio la regolamentazione di un qualcosa che deve essere, lo ripeto, l'ho detto tante volte, omogeneo in tutto il territorio romano perché non può succedere che in un municipio o in una scuola si faccia in un modo sulla base anche di un'interpretazione che gli uffici giustamente, sulla base di circolari che gli uffici giustamente hanno il dovere di erogare. Quindi crediamo che emanare un regolamento sia utile, dobbiamo scusarci per l'errore di battitura di una virgola, che riguarda la virgola, beh, questa è una polemica che veramente mi sento di rimandare al mittente, è un dato di fatto che Roma manca oggi di un regolamento sulla riflessione scolastica che si allinei a tutte le norme nazionali e regionali che sono state emanate nel corso di questi anni, che si allinei anche per quanto riguarda i menù vegetariani o il menù vegano, perché ci sono delle linee di indirizzo in tal senso anche dal Ministero della Salute. Altro poi sono le considerazioni personali sulla bontà nella crescita di un bambino del menù vegano o del menù vegetariano. Noi non stiamo facendo altro che regolamentare un qualcosa che comunque è previsto dalle norme e di cui evidentemente Roma ancora è deficitaria. Grazie per cui il voto positivo del Movimento 5 Stelle su tutti gli emendamenti che riguardano l'uso della virgola e su tutti gli altri che vanno poi a regolamentare in maniera sostanziale. Sperando che i consiglieri di opposizione presenti non smanino per la loro perdita di tempo in Aula Giulio Cesare. Grazie.